Si chiama Mese dell'Affido e dell'Accoglienza, si parla di politiche sociali in questo quadro, il Comune di Pescara e allora qual è l'obiettivo e soprattutto le categorie interessate? Riguarda naturalmente tutte le famiglie ma soprattutto i bambini che sono affidati a famiglie che appunto decidono di mettere a disposizione il loro tempo, la loro casa, il loro amore per loro. E' importante il tema dell'Affido perché oltre alla banalità di abbattere i costi che invece le comunità costano ai comuni, si affidano ai bambini, a famiglie vere, a persone disponibili, a chi appunto mette a disposizione se stesso per far sì che il bimbo possa avere una crescita sana, una crescita felice e serena. Nel momento in cui una famiglia decide di prendere in affido un minore viene lasciata da solo oppure la Regione e anche il Comune si preoccupano di un percorso? Noi abbiamo intanto aperto con una delibera di giunta proprio un tavolo sull'affido per mettere in comunicazione tutti i comuni e appunto per far sì che ci sia una politica unitaria sull'affido, linguaggi simili, modalità simili. E' chiaro che la famiglia che decide di essere una famiglia affidataria, quindi di prendere un bambino, passa attraverso dei percorsi a volte complicati ma comunque deve essere sostenuta, quindi non solo essere sostenuta nel momento proprio stesso dell'affido ma proprio in tutto il percorso del bambino e della famiglia stessa. Di fatto questo mese servirà per sensibilizzare i cittadini che vogliono aprire la loro casa, la loro famiglia a bambini che hanno avuto più bisogno, perché come dire l'amore non toglie niente ma anzi si moltiplica.